A Canosa, nel cuore dell'entroterra pugliese, è nata ed è cresciuta un'azienda di prodotti farmaceutici che è diventata una delle maggiori in Italia. Qui al momento svolgiamo attività di ricerca sia in campo galenico che alimentare che cosmetico. Ricerca ma anche produzione di integratori, preparazioni galeniche e farmaci personalizzati per evitare sprechi di medicine e per cure più adeguate ai singoli casi. Stiamo praticamente sviluppando dei sistemi di dosatura delle polveri per l'ambito farmacia. Ci stiamo occupando della messa a punto e dello sviluppo di una linea di basi pronte ad uso topico per il farmacista preparatore. Innovazione e sviluppo con un profondo legame con il territorio. Questo è un vigneto sperimentale che è stato qui piantato con lo scopo di sviluppare dei prodotti con antiossidanti naturali estratti da prodotti del territorio pugliese. Al momento sono in costruzione due nuovi edifici che ospiteranno dei laboratori di ricerca focalizzati principalmente sull'attività food, quindi ingredienti alimentari con proprietà salutistiche.